Purtroppo ancora una vittima nel ballo di Diano e si tratta nuovamente di un ospite del centro Juventus di Sala Consilina, la casa di riposo salese duramente colpita dal coronavirus. In questo caso però la donna 87enne che si trovava al campo Longo Hospital di Eboli era guarita dalla Covid-19 come certificato anche dalla negatività del tampone su di lei effettuato ed era previsto un ritorno a Sala Consilina. Ma l'anziana per via delle patologie pregresse non ce l'ha fatta e questa mattina purtroppo dal presidio ebolitano è arrivata la notizia del decesso. Nel ballo di Diano non si registrano nuovi casi, il bilancio sale però a 16 decessi con 151 contagi. Nel Cilento continua ancora il periodo positivo infatti è dallo scorso 17 aprile che non viene registrato un nuovo caso di coronavirus e negli ultimi giorni in varie comunità come Agropoli, Monte Corice, Omignano e Salento sono arrivate buone notizie riguardo la negatività dei tamponi che hanno scongiurato un aggravarsi del totale dei contagi nel territorio occidentano che resta sempre invariato con 23 casi ad Agropoli compresi tre decessi e tre guarigioni, quattro a Ballo della Lucania, tre a Casalvelino, due a Sessa Cilento e Vibonati, uno a Laurino, uno a San Mauro Labruca, uno a Capaccio Pestum e uno a Monte Corice.